In studio Viviana Sammi. Buonasera, bentrovati a MTG, una buona notizia in apertura. La Sicilia dal lunedì va in zona gialla, quindi con un rischio molto basso, grazie ai numeri confortanti sui contagi di questo, ma anche delle conseguenze della malattia del Covid-19. Ne abbiamo parlato con Nunzio Crimi, che è ordinario di malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Catania, che è stato in collegamento con Marco Scamino nel corso dell'edizione di MTG delle 16.30. Sentiamo uno stralcio di questa intervista. Cosa succede? Per fortuna, nella maggior parte dei casi, la malattia evolve benevolmente, evolve anche spontaneamente, a volte anche senza terapia, a volte con poco terapia, ma purtroppo succede un dato che è molto frequente, che lascia degli strascici, soprattutto a livello della respirazione. A livello della respirazione con difficoltà respiratoria, mancanza di respiro, ridotta tolleranza allo sforzo, cioè dire al minimo sforzo l'affanno, la despennea. Questo è uno dei sintomi più comuni. Si può recuperare, professore? Assolutamente sì, assolutamente sì. E qui vorrei ribadire con fermezza che non è un problema di farmaci, ma è un problema di riabilitazione, rieducazione, riallenamento dei muscoli e di tutto il fisico all'attività fisica, allo sforzo. Ecco, cosa viene fatto su questi pazienti? Subito. O meglio, ex pazienti. Sì, ex pazienti che però a volte anche sono, anche diciamo, dal punto di vista psichico anche provati da quello che hanno passato. E' chiaro che un paziente che è stato in rianimazione, che è stato ospedalizzato, ha anche dei problemi a volte di depressione, di carattere psichico, che certamente impiciano molto la riabilitazione in toto di tutto il soggetto. Quindi è una riabilitazione che deve avvenire psico-fisica. E il migliore elemento di terapia per questo tipo di rieducazione è il movimento. Come commenta il passaggio della Sicilia in zona giallo e che cosa si sente di trasferire ai nostri telespettatori? No, io sono stato molto critico e lo sono ancora soprattutto per il passato perché il virus non viene a nuoto, non passa attraverso lo stretto di Messina. Ce lo portiamo noi da Villa San Giovanni a Messina, ce lo portiamo noi nei vari porti da Palermo, Catania e così via. Quindi è evidente che si deve fare un'opera di filtro negli aeroporti, negli imbarcaderi e tutto perché questa è la prima cosa importante. E poi a livello sociale, il distanziamento e tutto deve essere praticato in maniera coscienziosa perché solo da questo noi possiamo ottenere poi il risultato finale. La vaccinazione, ottimo, dobbiamo ancora fare molto, dobbiamo continuare a fare molto, dobbiamo soprattutto, ecco questo vorrei concludere se abbiamo pochi secondi proprio con questo messaggio. Non dobbiamo avere nessuna preoccupazione per la vaccinazione. E come dicevamo da lunedì la Sicilia passa in zona gialla, la comunica il presidente della regione siciliana Nello Muzumeci dopo aver sentito il ministro della salute Roberto Speranza che ha firmato il decreto. Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare, ha commentato il governatore, provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto. Teniamoci caro questo risultato con senso di responsabilità e quindi rispetto verso le norme di prevenzione. La battaglia finale si vince solo quando tutti i siciliani si saranno accostati al vaccino. Così il presidente della regione siciliana Nello Muzumeci. E sull'organizzazione dei matrimoni in vista della dichiarazione della Sicilia in zona gialla c'è chiaramente più fiducia e l'abbiamo parlato con Alessandra Moretti che è la vicepresidente Federmap Italia. Sentiamo. Parliamo di queste tre ipotetiche fasi che avete proposto e su cui aspettate una reale risposta dal governo nazionale perché sono applicabili, lo avete dimostrato con queste immagini che stiamo vedendo che arrivano proprio da Bari. Noi ci rifacciamo un pochino all'esempio di una nazione a noi tanto cara e tanto vicina che è la Francia. Perché abbiamo utilizzato la Francia come metodo di paragone? Perché l'indice epidemiologico è molto simile a quello dell'Italia, perché il modus vivendi ed operandi delle feste e dei matrimoni è molto simile dal punto di vista proprio sociale a quello nostro italiano e perché anche loro hanno vissuto dei momenti di elevata tragicità. Ora il governo francese prevede tre fasi di apertura in relazione ai matrimoni e agli eventi privati che sono una con delle regole un po' più serrate praticamente nell'ultima settimana di maggio perciò immaginate come se noi potessimo dire ai nostri sposi potete sposarvi con regole un pochino più strette il governo deve ancora pronunciarsi, ma si possono studiare, ma si può fare. E poi via via la seconda fase a metà giugno con fondamentalmente la libertà dei festeggiamenti con la fine di giugno. Noi speriamo, visto che comunque è stato depositato ieri un ordine del giorno al quale tutte le forze politiche hanno partecipato e ci hanno coinvolto attivamente, in questo ordine del giorno si chiede che venga data una data e che questa data sia il più presto possibile perché è il nostro mercato economico che ha subito dei danni inenarrabili e le assicuro che ci metteremo un pochino a rialzarci perché le nostre aziende si sono trovate con fatturato zero quasi. La Sicilia è un luogo di destinazione. Quanti ospiti stranieri, quanti stranieri vengono in Sicilia per sposarsi? Tantissimi. Ecco, chi si occupa di destination wedding, chi si occupa di eventi internazionali di destinazione, ha dei tempi di programmazione lunghissimi. Non si limitano al mese o i due mesi. Dunque i matrimoni italiani magari si riescono a salvare e riprogrammare. Mentre quelli li abbiamo persi tutti in sostanza. Persi no, persi no. Riprogrammati. Con la dichiarazione della zona gialla, ma soprattutto con le prime risposte da parte delle istituzioni politiche, Confcommercio regionale sospende lo sciopero della fame. A sette giorni di distanza i vertici di Confcommercio Sicilia sospendono lo sciopero della fame alla luce delle importanti novità. Adesso, sottolinea il presidente regionale di Confcommercio Gianluca Manenti, non ci aspettiamo solamente la solidarietà, ma fatti concreti. Aspettiamo non solo la solidarietà mostrata ad oggi, ma la revisione del coprifuoco e date certe per la ripartenza di tutte le attività economiche oggi bloccate o limitate fortemente all'aperto e al chiuso. E da lunedì certamente la Sicilia sarà in zona gialla, mentre 250 milioni di euro di cui siamo stati informati, sono stati approvati dal Cipe, saranno messi in circolo nell'economia siciliana a sostegno delle categorie più colpite dalla pandemia, entro il mese di giugno, quando saranno attuate le procedure di erogazione prevista. Quindi due importanti obiettivi che sono stati raggiunti, che ci spingono a sospendere lo sciopero della fame. Il nostro pensiero va alle migliaia di imprese di vari settori in condizioni ormai disperate. Aspettiamo di capire dunque che cosa accadrà. Siamo pronti a riprendere nel caso una nostra battaglia di civiltà perché sia garantito il diritto al lavoro a tutti e nessuno dovrà essere abbandonato al proprio destino. Vincenzo Monello è il nuovo coordinatore regionale del Movimento Orgoglio Partite IVA Sicilia, il quale dopo l'elezione è venuta online ha speso due parole sulla crisi economica. Siamo la parte buona e produttiva del paese, non demoliamo auto e vetrine, vogliamo solo tornare a lavorare, vogliamo che ci vengano riconosciuti gli stessi diritti di ogni lavoratore italiano. Siamo lavoratori con partite IVA, con molte più responsabilità, più rischi e senza tutela da parte lo Stato. Siamo pronti per il cambiamento. Così Vincenzo Monello, Diavola, Neo, coordinatore regionale del Movimento OPI. Moltiamo pagina, noi parliamo di Cronaca con l'ultimo saluto al 21enne Modicano, Horacio Iabichino, deceduto martedì mattina nelle campagne modicane a seguito di un incidente mentre era sul trattore. Domani, come diciamo appunto, l'ultimo saluto di tanti che lo conoscevano e stimavano e che sono ancora attoniti per la tragica notizia. Un lungo corteo muoverà da via Sorda San Pieri, dall'abitazione del giovane modicano Horacio Iabichino, per raggiungere la chiesa di San Giorgio a Modica. Domani mattina alle 11, l'ultimo saluto al 21enne, deceduto dopo essere caduto da un trattore in via Gisana a Zappulla. Dalla sua casa alle 9.40 partirà un corteo di trattori che accompagneranno il carro funebre fino al Duomo di San Giorgio, santo, al quale il 21enne era particolarmente devoto. Ieri pomeriggio è stata eseguita l'atopsia sul corpo del giovane all'obitorio dell'ospedale maggiore di Modica. Ad effettuare l'esame il medico legale Francesco Coco, presenti due medici Vincenzo Cilì e Giovanni Ruta come consulenti di parte della famiglia del 21enne e del conducente indagato per omicidio stradale. Sono stati effettuati i predievisto logici e tossicologici. Il PM Vadalà ha concesso 60 giorni di tempo per il deposito della relazione per chiarire le cause e mezzi che hanno causato il decesso. Il giovane 21enne è deceduto sul colpo dopo essere caduto dal trattore. A nulla è balso l'intervento del 118, giunto sul posto. La Salma, dopo l'esame autoptico, è stata restituita ai familiari. E ancora una giovane vita spezzata di 21 anni. Lo vediamo dalle immagini. Carmelo Di Pasquale domenica pomeriggio stava facendo sport quando è stato colpito da un'emorragia cerebrale. Mercoledì scorso il decesso all'ospedale San Marco di Catania dove è avvenuto il prelievo multi-organo. Cinque chi provenienti da tutta l'Italia, inclusa quella per il prelievo di corne nel Policlinico San Marco, hanno eseguito il prelievo così come è stata sempre volontà della vittima. Il cuore è stato destinato a Udine, i polmoni a Torino, il fegato a Roma, i reni a Padova e Palermo come il pangrass e le corne. Un grazio di cuore va alla famiglia a cui siamo vicini in questa triste circostanza che ha sempre tenuto un comportamento esemplare, confermando a sua volta la volontà del figlio, e ringraziando tutti gli operatori sanitari per le cure e il sostegno umano ricevuto. Queste le parole del direttore generale Gaetano Sirna che ha espresso la solidarietà di tutta l'azienda alla famiglia provata da questa tragica perdita. Oggi pomeriggio sono stati celebrati i funerali di Carmelo Di Pasquale nella cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa. Voltiamo pagina e parliamo della giudiziaria con un non luogo a procedere. E' una espressa dal GUP nei confronti di Matteo Salvini che era stato accusato di sequestro di persona. Secondo il GUP il fatto non sussiste. Vediamo questo servizio. Alle mie spalle Matteo Salvini. Sta lasciando Catania soddisfatto perché proprio qualche ora fa il giudice Sarpietro e il GUP ha deciso che non c'è un luogo a procedere e che dunque non ci sarà nessun non processo per il caso Gregoretti a Catania. Soddisfatto il leader della Lega ha detto che nonostante siano stati spesi dei soldi degli italiani, dei denari degli italiani, è una sentenza corretta che ridà valore a quello che è stato il suo operato. Soddisfazione che viene espressa anche dal legale di Matteo Salvini. Giulia Buongiorno. In questa sentenza c'è dentro anche il caso Open Arms, tenetene conto. Questo giudice è stato un giudice estremamente rigoroso e attento perché sin dalle prime udienze ha voluto non giudicare in maniera superficiale, ha acquisito tutti gli atti, ripeto tutti gli atti, di casi simili. Ha acquisito tutto il fascicolo processuale di Open Arms, ha acquisito una serie di testimonianze fondamentali, è andato al Ministero degli Interni, al Ministero degli Esteri, alla Presidenza del Consiglio, abbiamo sentito una serie di testimoni illustri. Questo significa che questa è una sentenza emessa dopo un'analisi dettagliata di quello che è successo. questa giustizia dice che un ministro che ha difeso la dignità e i confini dell'Italia è un ministro che ha fatto semplicemente il suo dovere. L'immigrazione regolare, controllata, qualificata è un fattore positivo. L'immigrazione alla modi Lampedusa di 3.000 sbarchi in un fine settimana porta il caos e l'Italia non ha bisogno di caos in questo momento. Se non esiste sequestro a Catania non vedo perché debba esistere sequestro a Palermo. Penso che l'Italia sia l'unico paese nell'Unione Europea dove la sinistra politica ha mandato a processo un ministro non per reati corruttivi ma per le sue scelte di governo. L'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea dove sono aumentati gli arrivi irregolari. Quindi evidentemente qualcuno non sta facendo tutto quello che potrebbe e dovrebbe fare. Non uso questa sentenza per fare pressione. L'unica pressione, se possiamo usare questo termine, che faremo nelle prossime ore e ho convocato una riunione domani mattina con i governatori, i ministri, i sindaci della Lega che presiderò personalmente e perché alla riunione di lunedì si torni al lavoro, alla libertà e alla riapertura. Maxioperazione della Polizia Postale di Catania contro lo streaming illegale, il contrasto al cybercrime oscurati a 1.500.000 utenti con abbonamenti illegali. Vediamo il servizio. Sono 45 le persone indagate nell'ambito della maxioperazione blackout della Polizia Postale di Catania con il coordinamento del Servizio di Polizia Postale delle Comunicazioni di Roma. Oscurati 1.500.000 utenti con abbonamenti illegali che pagavano mensilmente un canone di 10 euro ciascuno contribuendo a creare un giro d'affari fraudolento mensile da 15 milioni ai danni delle più note aziende come Sky, Dazon, Mediaset e Netflix. La tecnica, ricostruito la procura di Catania, era piramidale e vedeva la collaborazione tra loro di persone che non si conoscevano. I contenuti protetti da copyright erano acquistati lecitamente come segnale digitale dai vertici dell'organizzazione, le cosiddette sorgenti e successivamente, attraverso la predisposizione di una complessa infrastruttura tecnica organizzativa, venivano trasformati in dati informatici e convogliati in flussi audio-video, trasmessi da una rete capillare di rimenditori e utenti finali, come spiega il dirigente del compartimento della Polizia Postale e delle comunicazioni della Sicilia Orientale, Marcello Labella. Un'associazione a delinquere finalizzata alla floda informatica, all'accesso accusivo, alla diffusione di legale di opere coperte dal diritto d'autore. Abbiamo rinvenuto parecchi gruppi, in particolare sui servizi di messaggistica quali Telegram, in cui venivano pubblicizzati interi pacchetti di PTV illegali. Si aderisce a una richiesta illecita, che è il pagamento di un abbonamento alla consegna di un dispositivo chiamato Pezzotto, che consente illegalmente di fruire di un servizio, quello dello streaming. I provvedimenti sono stati eseguiti in diverse città italiane, tra cui in Sicilia, Catania, Messina, Siracusa, Palermo e Agrigento. Sono stati impiegati nell'operazione oltre 200 specialisti, provenienti da 11 compartimenti regionali della Polizia Postale, che operando sul territorio di 18 province, hanno smantellato l'infrastruttura criminale sotto il profilo organizzativo e tecnologico. Un'importante centrale era stata individuata a Messina, la sua disattivazione e sequestro ha fatto rilevare che questa gestiva circa l'80% del flusso illegale in Italia. Non vale la pena per un risparmio di qualche euro rischiare pesanti conseguenze legali, ha sottolineato il dottor Labella. Per gli utenti finali, qualora identificati, ci saranno anche per loro delle sanzioni amministrative che possono arrivare a decine di migliaia di euro e delle sanzioni penali che arrivano ad alcuni anni di reclusione. Per coloro che poi sarà confermato essere parte stabile di questa associazione, le pene sono molto severe e arrivano a diversi anni di reclusione. Oltre a delle sanzioni amministrative molto severe che noi stiamo ancora verificando perché saranno anche in base ai flussi che gestivano. Chiusa da oggi pomeriggio la discarica di cava dei Modicani per un guasto tecnico, un fermo in contemporanea all'impianto di trattamento meccanico biologico, l'impianto di compostaggio di cava dei Modicani ha limitato il servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni Iblei. A Ragusa si registrano dei rallentamenti ai blocchi al servizio di ritiro dell'indifferenziato e domani causerà anche la sospensione della raccolta dell'organico che non dovrà quindi essere esposto. Il personale interessato è già al lavoro per la risoluzione dei problemi, sospeso il servizio della raccolta dell'indifferenziato anche a Modica, il servizio di raccolta del secco indifferenziato invece verrà garantito solo per le scuole primarie e per le case di riposo. Dovrebbe tutto tornare nella normalità già nei primi giorni della prossima settimana. Si ripropone con l'avvio della stagione estiva anche il problema degli incendi, si ne esprisce anche la condizione già precaria del corpo forestale che da anni attende la stabilizzazione. Ieri è intervenuto l'assessore regionale dell'ambiente, Toto Cordaro, che ha assunto una posizione sulle accuse del dirigente additato come colui che definisce la forestale e l'industria del fuoco, mentre è stato firmato un patto con gli agricoltori chiamati a essere le sentinelle delle campagne e delle foreste in Sicilia. La Sicilia brucia ma i forestali non sono in campo. E questa è la mara realtà che vivono i 18.000 operai del corpo dipendente della regione. Ieri è stato segnalato un incendio intorno alle 13 nella riserva di Cavagrande a Montedoro, che ha avuto origine da un terreno incolto. Sono intervenuti i vigili del fuoco dei forestali, neanche un uomo ha denunciato uno di loro, Guglielmo Monello, da 35 anni precario nel corpo forestale, il quale ha anche fatto notare che ancora a metà maggio i mezzi non sono stati collaudati, la torretta in stato di abbandono, inesistenti viali parafuoco. Tutto questo nel giorno in cui i forestali sono stati additati come coloro che appiccano gli incendi, alla luce dell'arresto in flagranza di reato di un operaio accusato di aver provocato un incendio nel Parco dei Nebrodi. Una dichiarazione è falsa, attribuita al dirigente generale del corpo forestale Giovanni Salerno. Lo ha difeso l'assessore regionale dell'ambiente Totò Cordaro, il quale ha dichiarato che la regione non ha mai ritenuto responsabili dell'industria del fuoco, gli operai del corpo forestale. I nostri stagionali, ha precisato il dirigente Salerno, che ha firmato il piano assieme al responsabile del servizio anti-incendio boschivo Rosario Napoli, pur essendo precari, sono decisamente specializzati e hanno già una garanzia di legge per l'assunzione stagionale a prescindere dal verificarsi degli incendi. L'assessore Cordaro ha altresì definito, con la firma di un protocollo, custodi del territorio, gli impregnitori agricoli chiamati a rendere più incisiva la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi con il controllo delle campagne e delle foreste nell'isola. Che le aree soluzioni innovative per la campagna anti-incendio, ha precisato Cordaro, non significa soltanto utilizzare strumenti tecnologici come droni, ma anche trovare soluzioni che, sulla base dei rapporti umani, della presenza sul territorio e di una collaborazione istituzionale concreta, possano dare risposte effettive. Gli agricoltori devono segnalare tempestivamente eroghi e mettere in campo pratiche di prevenzione come decespugliamenti di terreni incolti e realizzazioni di fasce parafuoco. Il comando del Corpo Forestale, attraverso l'Ispettorato alle Foreste Competente per Territorio, indicherà le proprie postazioni di avvistamento, condividerà il bollettino giornaliero rischio incendi, supporterà tutte le operazioni in campo attraverso la sala operativa del comando. Quindi i forestali lavoreranno in sinergia con gli imprenditori agricoli? Cosa ne sarà del loro futuro occupazionale in attesa della stabilizzazione? Di questo siamo tornati a chiedere con ragione a Tony Scilla, assessore regionale alle politiche agricole, allo sviluppo rurale da cui dipende il personale forestale, ma si è riservato di esprimersi nei primi giorni della prossima settimana. Centinaia di tirocinanti, avviso 22 ancora non pagati dalla regione siciliana. Lo scorso 26 aprile erano stati emessi 518 mandati di pagamento, la questione è finita in quinta commissione all'Arsa e è stato chiesto un osservatorio permanente. Ciò che sembrava un'interessante opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro e avere delle entrate si è rivelato una faccenda complessa a causa di numerosi intoppi burocratici per circa 6.000 tirocinanti dell'avviso 22, a cui in più occasioni abbiamo dato voce. Lo scorso 26 aprile sono stati emessi 518 mandati di pagamento, ma le operazioni procedono a rilento, così come ci spiegano, in centinaia aspettano di essere pagati per il lavoro svolto. Intanto la questione è stata affrontata nel corso dell'audizione di martedì in quinta commissione lavoro all'Arsa con le parti sociali, chiesto un tavolo permanente e l'inserimento al lavoro tramite i centri per l'impiego. È stata fatta all'Assemblea regionale siciliana un'audizione in quinta commissione lavoro, cultura e formazione. L'abbiamo fatta richiedere noi dai deputati del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola e Roberta Schillaci. Si è discusso di un bonus occupazionale da 5 milioni di euro già stipulato dal bando stesso. Noi chiediamo all'assessorato a lavoro l'inserimento al lavoro presso il centro per l'impiego. Così le aziende possono usufruire di un bonus occupazionale di 14 mila euro di noi tirocinanti. La regione si è impegnata a fornire una nuova lista di tirocinanti per i pagamenti ma non ha dato tempi certi. In particolare, come dice Lauria, il dirigente dell'assessorato regionale del lavoro, l'ingegner Shack ha detto che sono pronte altre 297 pratiche di pagamento, per 80 sono state riscontrate però anomalie e sono tornate agli enti promotori, 176 sono invece in corso di lavorazione. Ed è così che il portavoce lancia un appello. Abbiamo chiesto di velocizzare perché questi tempi sono assolutamente troppi, ci sono tirocinanti che ancora attendono da oltre un anno le indennità. E in conclusione annuncia che ci sarà un ulteriore incontro per chiarire eventuali modalità di inserimento dei tirocinanti presso aziende private ed enti tramite il centro per l'impiego. C'è una breve pausa pubblicitaria, torniamo da voi tra poco. Ancora ben trovati in studio, adesso vi parliamo dell'edilizia scolastica con l'arrivo da parte della regione di 60 milioni per una quarantina di progetti, 9 sono previsti in provincia di Catania, 8 nel Messinese, 6 in provincia di Agrigento come anche a Palermo, 5 a Trapani, 2 a Enna e ad Accaltanissette, infine 1 nel Ragusano. Vediamo nei dettagli questo servizio. 160 milioni per interventi di ristrutturazione e ammodernamento, messa in sicurezza e manutenzione degli edifici, ampliamenti e completamenti di strutture esistenti con rimozione di barriere architettoniche, realizzazione di menze, palestre e laboratori scolastici, lavori per migliorare l'efficienza energetica e gli impianti degli istituti. Sono fondi a disposizione dell'edilizia scolastica Risorse e Residue relative al fondo PAC 2007-2013 non utilizzate dal 2011, fondi che si sommano ai 46 milioni di euro di una prima tranche e ad altri 50 milioni di euro di una seconda, già stanziati dal Governo regionale. In totale quindi ci sono a disposizione quasi 160 milioni di euro che saranno attribuiti ai progetti in graduatoria entro la fine dell'estate. Ad annunciarlo è il Governatore nell'Omusumeci, dopo l'aggiornamento dell'elenco relativo agli interventi da finanziare, compresi nella graduatoria del piano triennale 2018-2020. La maggiore disponibilità finanziaria già acquisita permette di finanziare ulteriori 39 progetti distribuiti in tutto il territorio regionale, precisamente 9 in provincia di Catania, 8 nel Messinese, 6 in provincia di Agrigento, 6 a Palermo, 5 in provincia di Trapani, 2 ad Enne e Caltanissetta e infine 1 nel Ragusano. In particolare alle altre città metropolitane è destinato quasi il 50% delle risorse distribuite tra Catania, Messina e Palermo, mentre tra le restanti province Trapani fa la parte del Leone con un'assegnazione di oltre 11 milioni, mentre le assegnazioni ripartite fra le altre cinque province oscillano da 2,1 milioni di Caltanissetta agli 8,2 di Agrigento. Questa mattina è stato inaugurato un nuovo campetto nello spazio antistante, la scuola Giovanni Falcone di Modica, l'intervento del campo di calcio rientra nell'ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Treppiedi Nord. Un nuovo campetto in erba sintetica è stato inaugurato questa mattina dinanzi la scuola Giovanni Falcone di Modica. Una nuova area di circa 300 metri quadrati realizzata nell'ambito dei lavori di riqualificazione del contratto di quartiere di Treppiedi Nord. Un grande spazio all'aperto al quale questa mattina hanno fatto il loro ingresso due classi quinte dell'Istituto Comprensivo Raffaele Puedomani. Felici i propri bambini che hanno approfittato della bella giornata per una corsa all'aperto. Molto bello, ci saranno molte esperienze da fare e non vedo l'ora. Hai appena fatto una lunga corsa qui nel nuovo campetto, ti piace? Sì, è molto spazioso ed è fatto anche molto bene. Ci ritornerete allora qui nel campetto? Sì, sì, anche perché è molto grande e soprattutto per giocarci è molto bello. Quindi vi è piaciuto? Sì! Abbiamo dovuto aspettare un po' per i collaudi e per tutto il resto, tutta la parte burocratica. Oggi l'abbiamo consegnato in primis alla scuola e poi nelle prossime settimane vedremo anche per quanto riguarda le attività pomeridiane di poterla mettere a disposizione anche di associazioni che sono presenti nel quartiere. Principalmente questa struttura nasce specialmente per quanto riguarda la scuola, per l'attività della scuola, tanto che abbiamo pensato tutti insieme con i miei consiglieri e la Giunta di poter fare un ulteriore investimento e realizzare e completare la struttura con altri campetti di pallavolo e di basket. Ad esprimere soddisfazione il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani di Modica, Concetta Spadaro. Finalmente è arrivato questo momento che attendevamo da anni perché questo spazio esterno era diventato sempre inutilizzato e talvolta anche sede di occasioni di incontro dei ragazzi mancate e quindi abbiamo sollecitato più volte l'amministrazione comunale a rendere fruibile questo campetto. Noi non mancheremo anche quest'estate, abbiamo provato proprio ieri sera in collegio docenti un piano scuola che prevede delle attività estive e quindi quanto più preziosa questa opportunità riesce per la nostra scuola e per i nostri ragazzi. Gli studenti dell'Istituto De Felice di Catania hanno adottato Piazza Roma, un percorso storico per conoscere l'importanza di questo sito. Si chiama Adottiamo Piazza Roma, del progetto che coinvolge gli studenti e l'Istituto De Felice insieme alla Soroptimist per rivalutare una piazza importante nella storia della città. E proprio da un punto di vista storico si parte con la spiegazione di cosa rappresenta questo luogo per la città di Catania, ma soprattutto i ragazzi vogliono che questo luogo venga recuperato perché, ed è sotto gli occhi di tutti, come le condizioni della piazza siano davvero fatiscenti con non pezzi di strada che mancano, con non ciottolato completamente assente e questo può diventare pericoloso per chi in questa piazza decide di passeggiare o per i turisti che si spera potranno arrivare. Un nuovo progetto coinvolge i ragazzi dell'Istituto De Felice adottano di fatto Piazza Roma che avrebbe bisogno di un restyling già da tempo. Voi stessi che la praticate, lo avete chiesto così come lo chiedono i cittadini, ma i ragazzi si occuperanno anche dell'aspetto storico di questa piazza? Essenzialmente sì, il progetto è un progetto di alternanza scuola-lavoro con questo presigioso club Sor Optimist di Catania. Noi abbiamo questo progetto per fare ai ragazzi un'esperienza anche di guide turistiche, quindi di un'apertura della scuola alla cittadinanza e eventualmente ai turisti. Covid permettendo il finale di questo progetto sarebbe proprio quello di fare delle giornate in esterna e coinvolgere quindi i cittadini facendo loro conoscere questo prezioso bene che è la Piazza Roma. Un progetto per coinvolgere i ragazzi per spiegare la storia di questo luogo. Sì, noi come associazione Sor Optimist Club di Catania abbiamo deciso di rimpinguare il verde nella Piazza Roma e abbiamo anche voluto coinvolgere i ragazzi della scuola dell'Istituto De Felice proprio perché il senso di appartenenza, il senso dell'identità, della memoria possa riuscire a preservare, a conservare, a tutelare, nonché a renderlo fruibile così come altrimenti non potrebbe accadere. Cosa ti sta insegnando questo progetto? Che questa è una delle piazze molto belle di Catania, anzi se non la più bella, però che è anche molto rovinata e si deve riportare a nuovo. Cosa potete fare voi ragazzi? Beh, di sicuro non, ad esempio, gesti di inciviltà come buttare le carte a terra, altre cicchie, tipo le persone più grandi buttare le cicchie a terra e quindi, diciamo, valorizzarla questa piazza. È davvero tutto con questo servizio. Grazie per la cortese e attenzione a tutti voi ancora. Buona serata. Grazie a tutti.